La terrazza si rivela spesso un angolo di paradiso incastonato tra i palazzi in cemento ma qui lo spazio aumenta e la tua fantasia e il tuo pollice verde possano dare il meglio. Scopriamo allora insieme le piante consigliate. Scopri quantitativi e le mille soluzioni per comporle e curarle. Partecipa dal 24 settembre al 23 ottobre al Garden Festival d'autunno presso il tuo centro di giardinaggio di fiducia ICG.